si fa, si fa si fa, si fa devi allargarla bene lì larga bene vai bravo è vero anche uno lì due con la variante bravo appunto ma tanto c'è da buttare con la gomma lì con la variante due piedi con la variante nuova l'hai fatta due non è male ma due piedi ma troppo eh sì gira le palle che metti piede qua posso capire i punti difficili o il tronco adesso con calma la fai almeno altre due volte proviamo a farla tre volte come se fosse anch'io le sto facendo tre 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 la c'è tante la c'è la c'è la c'è l'altra l'altra Grazie a tutti. 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 Ok.